da armonia cosmica di franco lanari coscienza infinita terzo volume presentazioni di giorgio di simone edizioni del centro studi italiano di parapsicologia da molti anni partecipo a incontri commedium di alto profilo con i quali ho vissuto momenti memorabili riguardo al mondo divino che si manifesta attraverso entità di infiniti gradi di luce mi sono dedicato a questo terzo volume per dimostrare quanto sia reale lo spirito che è intorno a noi e che la morte non esiste ma è un passaggio in altre dimensioni secondo l'evoluzione che abbiamo maturato in questa palestra karmica che è la vita